Inizia nel pomeriggio lo screening di massa all'Università d'Annunzio per studenti, docenti e personale dell'Ateneo, ma per i dettagli abbiamo in collegamento la nostra Gigliola Edmondo che si trova proprio a Chieti. Sì Paolo, buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Rete8 e su Rete8.it con Andrea Berardinelli ci troviamo proprio davanti al Palauda di Via dei Vestini a Chieti dove da oggi pomeriggio alle ore 15 partirà lo screening di massa dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara e sarà il Rettore Sergio Caputi a guidare 100 volontari tra docenti dell'area medica specializzanti, dottorandi, paramedici e personale dell'Ateneo che si alterneranno nei due turni quotidiani per realizzare lo screening di massa che è riservato a studenti, docenti e dipendenti dell'Ateneo. Screening gratuito con tampone rapido per tutti i componenti della grande realtà universitaria, circa 30.000 persone che decideranno di accedervi volontariamente. Saranno attive tre postazioni che potranno eseguire complessivamente circa 1000 tamponi al giorno. Con Andrea Berardinelli abbiamo sentito il magnifico Rettore e vi proponiamo il contributo filmato. Sarà il primo a sottoporsi al test rapido antigenico ma sarà poi a sua volta un operatore che effettuerà i test. Come vi state organizzando? Ci stiamo organizzando in seguito allo screening di Massad che abbiamo fatto già nello scorso fine settimana presso il nostro palauda qui nel campus universitario di Chieti. Ci siamo organizzati anche per fare tamponi agli studenti, al personale docente, al personale tecnico e amministrativo dell'università che si terranno tutti i giorni a partire da oggi alle 15 e si terranno tutti i giorni da adesso fino a venerdì compreso, sia la mattina che il pomeriggio. In questo periodo non ci sono molti studenti nelle due sedi universitarie di Chieti e Pescara, però gli studenti avranno la priorità. È stato necessario prenotarsi? No, si verrà tranquillamente come è avvenuto per lo screening di massa direttamente. Certamente si viene, ci sono degli ampi spazi per cui non ci saranno assolutamente problemi. In questo devo ringraziare, devo dire, tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto della ASL, della Regione, della Protezione Civile e del Comune di Chieti. Ma soprattutto il personale interno dell'università che si è dato un grande affare, dalla dottoressa Burracchio che coordina un pochino le attività alla dottoressa Bruna Signari che invece si occupa di reperire il personale che va a effettuare i tamponi e dell'organizzazione clinica vera e propria. L'Ateneo fino ad oggi ha mantenuto pochissime attività in presenza, dall'unidiscorso ha riaperto a scelta dello studente le lezioni anche in presenza, gli esami in presenza e le tesi in presenza. Questo perché anche se i numeri sono francamente abbastanza bassi al momento, ma comunque intendiamo dare un segnale di presenza sul territorio e vi assicuro che ci si contagia molto meno dentro l'università piuttosto che a Piazza Salotto o in qualche lungomare. Dunque Paolo, il servizio di monitoraggio sarà attivo a partire dalle ore 15 di oggi, lunedì 8 febbraio. Le attività proseguiranno per l'intera settimana fino a venerdì 12 febbraio con due turni che copriranno l'intera giornata con i seguenti orari. 9.14 pomeriggio ore 15.19. Se la risposta sarà numericamente massiccia, si potrà proseguire con lo screening anche per ulteriori 5 giorni a partire dal 15 febbraio. Ci sono delle precise regole da seguire e per poter accedere al servizio che non richiede prenotazione, come avete sentito dal Rettore, occorrerà avere con sé un documento di identità che sia in corso di validità, la tessera sanitaria e il modulo compilato che è scaricabile dal sito dell'Ateneo. Paolo, se non hai domande, io ringrazio Andrea Berardinelli e ti restituirei la linea. Paolo, se non hai domande, io ringrazio Andrea Berardinelli e ti restituirei la linea.